Al prossimo video, Francesco Salla è pure Focetto e adesso stiamo andando a vedere la casa, oh che bel quartile, buongiorno Sì ciao, buongiorno che state facendo? Sto originando qui come vedete, ah sì ok, mi può portare a far vedere la casa, sì, subito Ok ok, bella casa, eh sì, però ci sono alcune cose da aggiustare Ah ok, posso? Posso? Eh sì, mi può far vedere cosa c'è qua? Perché aveva visto qualcosa di bello, cos'è? Eh lì c'è un motoscafo, ah bello, ma funzionante, eh no, è da riparare, ah ok Eh che c'è sta di qua? Ma che è qua giusto, va bene qua Eh che c'è sta qua? Eh delle statue, eh, ah ok Perché lei si siede? Eh, sto lavorando da stamattina, vogliamo un po' di riparare Oh scusa, scusa, scusa Ok, è bello questo qua Posso andare qui? Nel bagno? Si è addormentato, va bene Eh che c'è sta? Non ho ancora avuto Capolavoro! Va, 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 dove è andato? Vabbè, comunque io vado a vedere sopra Che ci sta qui? Forse potrò fare, forse la camera Vabbè, qua ci sta Ah, sono molte cose Ma dove sta questo qui? Forse ci sta Un programma in tv Sta sperentianto contro il letto E sta guardando le stelle che sarebbero le luci Che cosa sta facendo? Sta facendo pepe pure Oh mio Dio Che schifo Che schifo No, no, no Togliela, togliela Togliela Togliela, togliela Ma che cazzo Non si bocca Che tengo in mano Ma non puoi dire che con lo stecchio Con tutta la tua pipì Ma non puoi dire che è quello Tiri i tuoi blocchi Credo che ti servono per lavorare Va bene, comunque grazie signore Grazie, comunque non stavo vicino Va bene, se lo dici tu Va bene Ciao Ciao Ma Allora questo quartiere Torniamo da loro Ok Stiamo Ciao Francesca Ciao papi Allora comunque Dove sta pocetto? Ciao papi Pocetto sta dietro di dettornato Ah, eccoti Lo sai che la casa Ce la fanno Ce la danno? Eh, vogliamo andare a vederla? Vogliamo andare? Venite, venite Eccomi qua Ma chi è che c'è quella? Papà Vado a prendere la macchina Vedete qui Vedete qui, tanto credo che non ci sono quelli che lavorano No, a quest'ora non lavorano, non credo Stanno a mangiare Sì È l'una Tra l'ora dobbiamo andare a mangiare pure noi Vedete Dai Ma voi avete mangiato? Tu hai mangiato? Sì Ok Scusa Stavo aspettando Ma questa è la nostra cameretta? Sì Poi proprio dobbiamo fare un po' di tagli Avete visto sotto? Venite qua a vedere sotto Questa è la timuna fogna Vedete qua Non so Nemmeno quel blocco Mi hanno detto là quel blocco Prima nell'istruzione qua Mentre stavo volendo il bagno Eh non lo so Sì è il motoscafoli Ti piace? No 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 Adesso no Vieni qua Vieni qua No No Andiamo a vedere il piano di sopra Guarda che bellissimo Aspetta Vediamo se ci passo sotto io qui Venite Tu ci passi Poi c'è Papà Che c'è? Vieni un attimo Guarda cosa vi Guarda La vediamo ancora Che cos'è? Guarda Io non mi ho visto Piccola Lidia Mi ha fatto male E ti mette Non mi faccio Ma mamma Questo che cos'è? Qua ci sarà il bagno Però Che bello Non l'hanno fatto proprio male Per adesso Papi chiudi qua Papi chiudi qua Vieni qui Vieni qui Vieni qui Guarda Non andare È pericolosissimo Non andare Ci sia un blocco misterioso Dobbiamo scoprire Che cos'è Questa qua Sarà una delle nostre missioni Quando ci vediamo a casa È vero Questa sarà una delle nostre missioni Papà Sì Sono i miei libri Dobbiamo vedere Dobbiamo vedere che cos'è Questa è una delle nostre missioni È vero? È vero figli Guardate qua Quattino Allentrata che sono un po' di armi Sì Io vado a prendere Fai attenzio Vieni qua Francesca Francesca Vieni qua su Vieni colpi Sei piccolina Dai vieni qua Guardate qui Io ci riesco a passare un pochino sotto Prendo le armi Faccio un po' di difficoltà Prendo le armi Eh Prendo le armi No Guardate Sperma D'attenzione Scappa 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 Abbasso le armi Sto appata Ok Sto appata Vengo per i campi Chi te le ha date le armi Le hai presi da là dentro Sì Sì Si messo pure sotto le coperte Andiamo Svegliati Vieni Ti prendo in braccio Dai va bene Che ne dici Sì Sali Sali Vieni Ecco qua Mi ho preso Ok Adesso ti porto io Ti ho fatto nella luce Però Attenzione Ah 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 Sto giusto andando Nella tenta Che cazzo fai Eh scusa in tenta Andiamo Ma corri in poca Andiamo Ma dalla Ma dalla Ma che cavolo Vabbè Scendi figliola Va bene Va bene figlioli Buonanotte Mi racconti una storia Buonanotte No Il prossimo giorno Buonanotte Buongiorno 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 Bebi Comunque Dobbiamo andare oggi Allì Va bene Comunque per questo video è tutto Domani veramente C'è nel prossimo episodio Andiamo alla nuova casa E tac E I 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.